Benvenuto alla presentazione del software ISO 14001 Climate Change, lo strumento per realizzare correttamente l'aggiornamento dei sistemi di gestione ISO 14000-2015 all'addendum AMD 1 del 2024, relativo al cambiamento climatico. Il software ISO 14001 Climate Change consente di 1. Verificare se il cambiamento climatico influisce sul sistema di gestione ISO 14000. 2. Realizzare la valutazione dei rischi legati al cambiamento climatico. 3. Definire e gestire gli obiettivi per ridurre l'impatto del cambiamento climatico sui processi aziendali. 4. Realizzare e gestire la procedura di valutazione rischio cambiamento climatico, requisito 4.1, e la procedura di valutazione esigenze e aspettative delle parti interessate in ambito cambiamento climatico, requisito 4.2. Il software richiede la presenza di Windows da versione 10 in poi. Per verificare se il cambiamento climatico influisce sul sistema di gestione ISO 14000, il software propone una esclusiva checklist. Nel caso sia necessario realizzare la valutazione dei rischi legati al cambiamento climatico, il software dispone di uno specifico modulo, che consente partendo dal processo, asset e dal tipo di rischio climatico, di calcolare in automatico il livello di rischio, di evidenziare le conseguenze di tale rischio e di proporre sempre in automatico le misure di mitigazione. Il software ha già precaricate otto tipologie di processi e otto tipologie di rischi cambiamento climatico, con le relative misure di mitigazione. In questo modo viene realizzata in modo automatica l'analisi dei rischi. Il software genera in automatico il seguente report dove sono riportate tutte le informazioni relative alla valutazione rischi legati al cambiamento climatico, con riportate in automatico il livello di rischio, le conseguenze connesse al singolo rischio e le misure di mitigazione da applicare. Una volta effettuata la valutazione dei rischi, è necessario definire e gestire gli obiettivi per ridurre l'impatto del cambiamento climatico sui processi aziendali. Il software ISO 14001 Climate Change ha già precaricato tre tipologie di interventi completi, per ridurre l'impatto del cambiamento climatico sui processi aziendali legati all'ambiente, completi di tutte le informazioni quali modalità di intervento e risorse. Il software ISO 14001 Climate Change Manager contiene le due procedure di supporto alla gestione corretta del cambiamento climatico in ambito ISO 14001. La procedura di valutazione rischio cambiamento climatico, relativa al requisito 4.1, e la procedura di valutazione esigenze e aspettative delle parti interessate in ambito cambiamento climatico, requisito 4.2. Le procedure possono essere personalizzate. Il software ISO 14001 Climate Change Manager, aggiorna il sistema di gestione ambientale, incorporando senza sforzo i requisiti del cambiamento climatico secondo l'Undramar-2024. Centralizza la gestione documentale, affina l'analisi dei rischi e mantiene la conformità normativa. Migliora la comunicazione con le parti interessate e supporta le iniziative di sostenibilità. Il software fornisce dashboard per il monitoraggio costante e promuove un miglioramento continuo tramite feedback mirati. Puoi ordinarlo direttamente dai siti edirama.org e certificazione.info. Grazie per la tua attenzione.